Una caratteristica fondamentale che deve avere il programma di allenamento è che deve essere variato nel tempo. Non possiamo mantenere lo stesso programma per 5-6 mesi. Questo perché? Perché il nostro corpo si abitua e non migliora più. Resta lì, fermo, stazionario. Quindi ricordatevi bene, una caratteristica fondamentale del nostro programma è che deve essere continuamente variato, mai uguale. Mi raccomando, allenamento variato e soprattutto alimentazione corretta. Nutritevi in maniera corretta.